Allora, vedo che qua è sparso di ricordi. Boh, partiamo da qua. Chi ne avrà raccolto di più prima che la mia clessidra sia esaurita, sarà ancora più vicino alla maschera d'oro. Che voce... Disturbante. Nastro annodato. Due nastri. Vabbè, ho abbastanza tempo. Vabbè, vabbè, su 25 manca un botto di tempo. Dai, non è così difficile, credo, penso e spero. Siete tutte incantevoli. Quattordici, venti... Adesso andiamo qui. Ma ventiquattro, che stronzo che sei, oh! Stronzissimo! Mancano comunque queste missioni negli Assassin's Creed nuovi. 28 nastri, buona. Abbiamo un vincitore! Sei quello con più nastri di tutti! Che poi questi nastri non li ho mica visti. Il preferito delle donne! E ora sei ancora più vicino al più grande premio di tutti i tempi! E 3.000 fiorini così gra... Sì, gratuitamente, perché sono a gratis proprio. E l'altro ricordo dov'è? È in culo, proprio. È indecisamente in culo. Vabbè, sarà più viaggio che altro. Ma... Matto! Ah, sono sparsi per tutta la città. Questo non me lo ricordavo. Ucciderlo. Bandiera. Se la prendete le bandiere, ragazzi. Bisogna essere molto, molto, molto rapidi. Non mi avrai, non mi avrai, non mi avrai, non mi avrai. Perché ci mettono i ladri? Perché? Per quelli che corrono. Le guardie che corrono ci mettono. Bello è che non lo posso neanche uccidere. Ah, è sempre nello stesso punto la bandiera? Vabbè, easy. Fanculo. Ci ho capito? Ma è incappabile. È imprendibile. E' imprendibile. E' imprendibile. Quando era tenuta? Fanculo. Fanculissimo. T'ho preso, stronzo. Non mi lanciate le cose, vi prego. Non mi lanciate le cose, che adesso è importante. Non mi lanciate le cose. Non puoi scappare più veloci. Ma bastardo! Bastardo! Lo stiamo perdendo. Eccolo. Proprio all'ultimo mi ha lanciato la cosa. Fantastico. Bravi, grazie. Ok, la terza bandiera lo so già. Sarà tostissima. Più che altro sicuramente sarà più forte lui in l'andarci. Sarà più veloce. Più veloce. Più veloce. Più veloce. Va bene. Due su tre. Ma come l'adversario ha preso la bandiera. Bastardo. Ancora l'ha presa. Dai, corri! Non lo posso neanche buttare in acqua adesso. Ah, ok, vabbè. Siamo due a uno. Ci sta. Godo. Sto anche perdendo vita, ma... No, 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 no. Ma come ha la bandiera lui? Non ci voglio credere. Fanculo, vai. Sganciamelo. Ora non mi capi più. Non mi capi più. Peno male non c'è la sincronizzazione totale. Se no, avrei perso. Perché sicuramente la sincronizzazione totale sarebbe stato... Non permette all'avversario di prendere nessuna bandiera, però vabbè. Ecco il vincitore! Hai protetto la tua bandiera e rubato quella nemica. Tu sei dimostrato un guerriero senza pari! E sei ancora più vicino alla vittoria! Beh, direi. Sconfortato Dante. E altri 3.000 in saccoccio. Sconfortato Dante.